The Peacemaker è un film del 1997 diretto da Mimi Leder con protagonisti George Clooney e Nicole Kidman. La pellicola ha segnato un buon successo al botteghino guadagnando oltre 100 milioni di dollari di fronte ai 50 investiti. È l'esordio cinematografico della nuova casa di produzione Dreamworks che nel corso degli anni seguenti ha regalato agli spettatori di tutto il mondo un sacco di pellicole cult. Il film segna anche un altro esordio, quello alla regia di Mimi Leder che fino ad allora si era fatta le ossa nel mondo delle serie tv. I dirigenti della Dreamworks volevano solamente Spielberg, ma lui spiazzò tutti scegliendo Mimi perché era affascinato dal suo stile, dal suo carisma. Bisogna ricordarsi infatti che la Leder è stata la prima donna ad essere stata ammessa a studiare cinematografia all'American Film Institute. Cos'è successo? Non lo so, dottor Kelly, però dovrebbe seguirmi. Il film si ispira al libro One Point Safe e inizialmente si sarebbe dovuto anche intitolare così. In ambito militare One Point Safe indica la funzione che impedisce l'esplosione accidentale di un'arma nucleare. La produzione, notando che la trama si stava allontanando dal libro con le tante modifiche al copione, optò quindi per un altro titolo, The Peacemaker. Per partecipare al film, George Clooney ha chiesto uno stipendio di 3 milioni di dollari, tutti guadagnati con il suo sudore. L'attore infatti ha girato gran parte delle scene più action senza l'utilizzo di controfigure. Ha guidato lui nelle sequenze più pericolose con le automobili e in più, pensate, ha imparato a calarsi con una fune da un elicottero. Gli altri membri del cast lo chiamavano Fearless, l'uomo senza paura. Sai, noi dei reparti speciali abbiamo una tradizione. Quando torniamo tutti interi da una missione, andiamo a berci una birra insieme. Nel cast è presente anche Armin Müllerstahl, candidato all'Oscar per la sua bellissima interpretazione in Shine. Clooney stravedeva per lui, gli stava sempre attaccato, sembrava quasi come se fosse suo figlio. Era lui ogni mattina a portare il caffè a Stahl e questa cosa ci fa un po' sorridere sapendo che ai giorni nostri Clooney è diventato il testimonial di una nota marca di caffè. Facciamo due passi. D'accordo. Facciamo due passi. La trama del film si intreccia in diversi paesi del mondo, ma in realtà la pellicola è stata girata principalmente in Slovacchia e negli Stati Uniti. Le scene dell'inseguimento di Vienna sono quindi state effettuate a Bratislava, proprio nelle vicinanze dell'ambasciata americana che ha anche supportato la troupe ad ambientarsi. Quando nel film vediamo l'aeroporto di New York, dobbiamo sapere che in realtà quello è un convention center di Manhattan perché il vero Terminal non diede i permessi alla produzione di entrare nei loro locali. Sul volo Swiss Air 12.04 da Zurigo, diretto al Kennedy. Orario da Vino. È atterrato sette minuti fa. Liamate al Kennedy. Per girare la scena della chiesa la produzione ha ricevuto un sacco di rifiuti dai preti di New York perché un film che aveva a che fare con dei terroristi non poteva assolutamente essere ospitato all'interno delle loro parrocchie. Un giorno un parroco accettò ma fu la comunità a ribellarsi contro la pellicola, organizzando anche tante manifestazioni. Alla fine la produzione senza nessuna location fu costretta a utilizzare la computer grafica, gli effetti speciali. Via! Via! Presto andate! Ultime rapide curiosità e cominciamo dicendo che sul set Clooney organizzava un sacco di scherzi agli altri membri del cast. Ad esempio, beh, gli spruzzava l'acqua addosso, svitava il tappo del sale, o magari la mattina li svegliava all'improvviso, la mattina a presto. Insomma, ne faceva davvero tantissimi. Gli unici esenti erano Armin Müllerstahl, il suo idolo, e la sua grande amica Nicole Kidman, che ancora oggi, durante le interviste, si vanta di essere una delle poche attrici a non aver ricevuto scherzi da Clooney. Inoltre, quando nel cast di una pellicola hollywoodiana ci sono due star del calibro di George Clooney e Nicole Kidman, di solito una produzione cerca di sfruttarli e di mostrarli per più tempo possibile. Nel caso del nostro cult, invece, i due divi appaiono solo a trama inoltrata, la Kidman non prima di 16 minuti e Clooney non prima di 20. Infine, parliamo della Password che i protagonisti ottengono a Vienna, con riferimento al noto attore David Hasselhoff. In Italia David è conosciuto soprattutto per le serie tv come Supercar o Baywatch, ma in Germania e Austria, dove si svolge la scena, è diventato famosissimo come cantante, vincendo numerosi dischi d'oro. Bene, queste erano le più belle curiosità di un cult come The Peacemaker. Non è qui. Forse l'abbiamo identificato al banco 7. 7, laggiù. Oh, no, 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 no. Sono tamburini, diris, li conoscono tutti. E chi è questo? Grazie. 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 Grazie.